Appuntamento con la storia medievale a Miglionico nel Materano, il centro storico rivive l'evento che ha segnato inevitabilmente la storia del borgo e del suo castello, un episodio storico che vede protagonista il castello di Miglionico detto dall'ora del Malconsiglio, cui i baroni per iniziativa di Girolamo San Severino feudatario si riunirono nel settembre del 1485 per tentare la via della pace con Re dopo anni di scontri e tradimenti, un tentativo che non ebbe successo e che per questo valse al castello l'oscura denominazione. Tutto questo viene ripercorso in una rievocazione storica tra il centro antico del borgo e la corte del castello, un tuffo nella storia attraverso musica, accampamenti, mercati medievali, prove d'armi, falconeria, giostre dei cavalli, corte o storico, animazione a tema, fino alla rappresentazione della congiura, ieri già un preludio alla giornata con una rappresentazione teatrale in piazza Castello e spettacoli musicali con artisti di strada. Oggi il grande giorno a partire dalle 17.